benvenuti sul canale di one piece i massimi esperti da Kaveguri di Zohar oggi parleremo di questa nuova video teoria su Zoro e le sue origini allora voglio iniziare questa teoria con una bella frase durante lo scontro tra Zoro e Ryuma le ultime parole di quest'ultimo dei grandi samurai furono se sarai tu il prossimo padrone della Cesui lo sarà anche la sua volontà ho fatto questa citazione perché c'entra molto con la tematica e penso che sia applicabile un poco per tutte le grandi spade adesso passiamo ai riferimenti di Zoro a Wano io sono convinto che il maestro di Zoro Koshiro provenga anche lui da Wano Kuni infatti all'epoca dell'attacco a Wano di vent'anni fa lui può essere scappato con dei bambini tra cui Zoro che al tempo sappiamo possiedeva un anno credo anche che la spada di sua figlia Koshina, l'amica di Zoro d'infanzia cioè la Wado Shimonji, la strada dell'armonia provenga da lì perché essendo la Wado Shimonji uno delle vent'uno o Wazamono è la stessa categoria delle spade come la Shesui e quindi è davvero importante poi vediamo che le tecniche utilizzate da Zoro le quali molte ovviamente gli sono state insegnate da Koshiro sembrano essere di Wano come le tecniche utilizzate nello scontro contro Mr. Wano se ricordate non può essere un caso poiché le parole di Yogoro dei fiori coincidono proprio con quelle di Koshiro quando dice una buona spada può non tagliare nulla o può tagliare qualsiasi cosa anche l'acciaio adesso vorrei passare a dei riferimenti storici quindi diciamo che se Zoro fosse il figlio di un Danio cioè un signore della guerra di Wano Kuni bisogna scoprire ancora qual è l'origine della famiglia di Zoro che è molto importante un riferimento ad una figura leggendale del Giappone feudale che a noi ci piace molto è la storia di Yoshitsune Minamoto il quale ha fatto un parallelismo tra lui e Zoro infatti molti personaggi tentano di ripetere l'impresa per paragonarsi proprio al grande Yoshitsune Minamoto come in One Piece ad esempio Zoro impara a tagliare l'acciaio perché riesce a fermare una foglia che cade con la spada senza tagliarla proprio come fece il grande Minamoto si narra poi che Yoshitsune era l'ultimo figlio del signore della guerra Minamoto no Yoshimoto ed imparò sul monte Kurama l'arte del Kenjutsu da chi? dal re dei Tengu soggiovo e One Piece ovviamente e Tenguyama Etezu il forgiatore di Katane e quindi potrà lui insegnare qualche nuova tecnica a Zoro? anche se sappiamo che è stata dannata da Miwok ciò non esclude che Zoro possa prendere nuove tecniche da altri spadaccini ovviamente tramite Tetsu Tengu poi il discendente dei forgiatori dell'Ekitetsu Zoro potrà ricevere nuova informazione sulle famose spade maledette dell'Ekitetsu e sulle altre spade e potrà ricevere secondo me anche una spada di suprema fattura ovviamente perché ricordiamoci che Tengu ha sempre detto che aspetta qualcuno che questo qualcuno sia proprio Zoro allora citando Yoshizune Minamoto mi è d'obbligo farvi un riferimento anche su Benkei perché secondo me corrisponde a Gyokimaru One Piece molto spesso viene descritto con tratti demoniaci un bambino mostruoso secondo la tradizione infatti da bambino viene soprannominato Oni Waka cioè bambino Oni l'espressione sua anche se mi sembra una tipica bambola giapponese è proprio anche quella di un Oni la storia narra poi che Minamoto affrontò Benkei sul ponte Gojo e sconfitto in duello per la prima volta da un avversario più giovane e più piccolo di statura secondo la tradizione Benkei gli giurò eterna fedeltà e lo seguì per tutta la vita Benkei sfidava a duello chiunque volesse attraversare il ponte e dopo aver vinto ovviamente gli sottraeva la propria arma egli aveva chiesto a Kokaji Munenabu un famoso forgiatore di costruirgli un'armatura e questo aveva accettato a patto per che il Benkei gli portasse mille spade purtroppo Benkei sarebbe arrivato a collezione nel 1999 quando fu sconfitto dal giovane Ocezione Minamoto quindi vi pongo queste ipotesi se le anime e le spade di Benkei con queste si potessero forgiare una spada di Suprema Fattura per Zoro oppure come sappiamo serviranno tutte quante per la guerra chi sa poi si narra tra le varie leggende che il giovane Ocezione Minamoto grazie all'aiuto della figlia dello stregone Kiichi Ogen riuscì a rubare due leggendari libri di tattiche belliche che sono il Rikuto e il Sanriaku cioè il libro della tigre noi sappiamo che spesso in One Piece Zoro è proprio due ad essere raffigurato come una tigre anche in varie copere passate abbiamo visto quindi credo che questi collegamenti siano abbastanza forti che ci indicano che Zoro sarà un vero e proprio protagonista in questo senso qui e continuiamo on KD tutto quello che ha detto Katakuri fino adesso è frutto di nostre riflessioni e soprattutto approfondimenti che noi abbiamo fatto fino allo scorso giugno quindi io adesso vado ad aggiungere alcune cose grazie agli ultimi capitoli che abbiamo letto in questo periodo possiamo già ricordare il grido Snatch che Zoro insegna a Mamonosuke e che Kiku Tanto aveva proibito di usare bene vi ricordate che si aveva spiegato cosa significa Snatch significa abbandonare il nome e la saggezza lo conosciamo dagli uomini che stavano con Shun Temaru detto a Shura Doji che erano partiti per andare verso Nigashima che non potevano aspettare più i famosi 20 anni 10 anni fa andarono all'attacco ma non tornarono più già questo collega in modo intricato Zoro a Wano Kuni dopo Yasu Yasu è un Damio uno Shimotsuki troviamo un altro che si chiama Ushimaru esso era di Ringo mentre Yasu era di Akumai e tutti e due sappiamo che significa questo cognome Shumotsuki l'una gelante che in giapponese indica novembre e che è il mese di nascita di Zoro inoltre è il sovrannome che è venito addato al God Sword il dio delle spade Ryuma ricordiamoci quindi anche il legame del maestro di Zoro con Wano Kuni cioè Koshiro che secondo noi avrà un legame sicuramente anche con Shumotsuki ricordatevi il vestito e il soprabbito delle spade incrociate che aveva sia Yasu all'epoca nel flashback passati sia il maestro di Zoro mentre si allenano al dojo quindi facendo riferimento a Zoro e alla Emma che gli verrà consegnata la nostra Yori la figlia di Lord Oden la Emma è una delle due spade di Oden insieme alla Amono Abakiri facciamo riferimento a un altro manga anime a cui sicuramente Oda si è ispirato abbiamo già detto in varie live i vari commentoni cioè Kenshin Samurai Vagabondo Imura Bhattosai noi sappiamo che ha preso ispirazione da Yoni Wabanshu e da tante altre cose comunque riferiamoci solamente a questo caso specifico e diciamo che questa frase proprio per inciso disse che per forgiare una spada sagra ne servono due la migliore prende il nome di Shinuichi la peggiore verrà chiamata Kageuchi e entrambe saranno forgiate dallo stesso forgiatore maestro Fabbro allora quindi per ogni manifattura di spade sagra abbiamo la Kageuchi che è una spada d'ombra quindi maledetta e la Shinuichi che è la spada suprema benedetta è proprio un'usanza quindi la prima cioè quella là d'ombra quella maledetta venne data a Kenshin diciamo e basta in dono per combattere mentre l'altra la spada benedetta venne consegnata a un santuario di Kyoto Akusan questo santuario che è un tempio perché veniva data in dono per capire che fossero finite diciamo le guerre e le morti le stragi e queste cose qui ci fu una scena fondamentale perché la la spada di d'ombra la spada quindi di una fattura più bassa si ruppe durante il combattimento di Kenshin lui però per salvare un bambino che guarda caso era il nipote del forgiatore cioè il forgiatore era il nonno sfidò un uomo all'epoca era diciamo malvivente che poi diventò un po' l'izzotto vabbè comunque andatevi a vedere Kenshin che è sempre importante anche se la sua katana era rotta e quando il figlio del forgiatore capì che Kenshin era lì non per se stesso ma per salvare le generazioni future cioè quello che il suo nonno quindi che il padre si era impegnato tanto a fare corse nel santuario prese la spada benedetta che la diede a Kenshin e disse mio padre ha creato tante spade assassine cioè maledette però per proteggere le nuove generazioni ne ha creata un'ultima questa benedetta conservate questo tempio tu Kenshin sei l'unico che può salvare mio figlio e quindi sei sicuramente degno di impugnarla cosa voglio dire con questo che Yori che è la figlia di Oden considerando Zoro degno di usare le katane di suo padre perché? perché lì per salvare le generazioni future di Wano Kuni Momonosuke Tama Togo la stessa Yori rappresenta la coincidenza di questi due manga che si vanno a intersecare ricordatevi che Oda era allievo proprio del fondatore dell'ideatore del disegnatore di Kenshin Imura il samurai vagabondi quindi per il cambio di spade di Zoro proviamo a dirvi la nostra probabilmente la Shusui la potrà cambiare naturalmente abbiamo visto Zoro come era riflessivo lascerà in dono al popolo per far riposare finalmente l'anima di Ryuma e l'anima della Shusui come si faceva all'usanza poi potrebbe versare lasciare una tazza di sake in onore la quale di Cimonji naturalmente è la spade della promessa la spade che lo porterà a essere il più grande spade del mondo quindi la terrà con lui per sempre un'altra che potrebbe cambiare al nostro modo di vedere sarà la Nidai con la Sandai prendendo quindi un Akitezu dello stesso livello ma di un grado superiore che è quella che in questo momento è in possesso di Rufi ma che noi abbiamo fatto una teoria in cui secondo noi Rufi potrebbe aiutare nella sconfitta di Kaido insieme a Zoro con un incrocio di spade potrebbe anche lasciare la Shusui come abbiamo detto in cambio della Emma però secondo noi potrebbe lasciare anche la Emma cioè la utilizzerà solo in questo momento per aiutare Rufi nella sconfitta di Kaido e che succederà Tenguyama e Tetsu come per la leggenda di Kenshin secondo noi donerà a Zoro una spada forgiata addirittura da suo nonno di suprema fattura quindi Zoro potrebbe usare sia la Amono a Bakiri di Momonosuke per sconfiggere simbolicamente Orochi anche se il colpo finale lo potrebbero dare Yorimo o No Sugifo o Dei Rossi come volete voi e quindi rivaleggiare con la leggenda di Susan Oh seguendo sempre questa leggenda quindi lo Shogun che cos'è o Ro Yamato No Ro informazioni che stiamo avendo questi elementi che ci stanno illustrando durante il manga ma anche durante l'anime ora diteci voi cosa ne pensate lasciate un like alla live lasciate un commento a questo video mi raccomando commentate vogliamo sapere voi cosa ne pensate iscrivetevi alla pagina Facebook dove trattiamo One Piece iscrivetevi alla pagina Facebook dove trattiamo l'account Instagram ma soprattutto noi abbiamo fatto tempo passato due live su Zoro per spiegare le sue origini e le sue versus vi metteremo il link in descrizione delle nostre vecchie live così ci andrete a riascoltare soprattutto quello che disse Katakuri Suar che era molto molto ferrato già su questo tipo di argomenti e quindi quando avete un po' di tempo dopo avervi visto questo video che spero vi piacerà andare a vedere dei live e venite anche lì a dirci voi cosa ne pensate detto questo restate sintonizzati One Piece i massimi esperti grazie al prossimo video che sarà molto presto probabilmente non vi dico quale un po' di tempo